L'emergenza rifiuti c'è, fortunatamente ancora non si vede ovunque, ma sotto il cielo dell'alto di Reno Cosentino c'è preoccupazione. A San Nicolarcella ad esempio si terrà oggi un incontro urgente per prendere provvedimenti immediati. A Tortore invece l'assessore all'ambiente Franco Chiappette è stato la Pallissiano. O in settimana conferiamo l'indifferenziato in discarica o da lunedì non possiamo più raccoglierlo. Lo spazio nei cassoni sta finendo. Ed ecco il bollettino di guerra, l'impianto di la mezzaterme dove conferiscono tutti i comuni dalla riviera dei Cedri, viaggia a velocità ridotta e i camion tornano indietro. La regione Calabria aveva dirottato tutti verso Rende presso l'impianto della Calabra Maceri, ma subito dopo è arrivato lo stop. E la confusione regna sorrana anche a Palazzo Alemanni. L'assessore all'ambiente regionale Francesco Pugliano ha minacciato le dimissioni qualora non venisse approvato il piano rifiuti. Ciò vorrebbe dire che si ritornerebbe al commissario. Tornando sul Tirreno Cosentino a Scalea già si vedono da giorni gli effetti del collasso, con spazzatura nelle piazzole che viene portata via con i mezzi meccanici e scendendo verso sud la situazione peggiora chilometro dopo chilometro. A rendere difficili le cose ci pensa anche l'inciviltà. Queste foto riguardano una discarica abusiva scoperta in località Pietra Rossa di Diamante. A scattarle i membri del movimento per una diamante migliore. A Praia Mare le zone preferite dove vengono abbandonati i rifiuti rimangono le località Fortino e Foresta e la zona della ex Linea Lane. Le agenti della Polizia Municipale dell'Isola Dino operano anche in Borghese per fermare i trasgressori. Ma cosa sta accadendo in queste ore? Gli amministratori del Tirreno aspettano le comunicazioni della regione, ossia il calendario con i turni di scarico che farà rientrare temporaneamente lo stato di allerta. Per alcuni comuni dovrà arrivare entro 24 ore, altrimenti la spazzatura rimarrà in strada.